corso grossetto 18 torino ben ritrovati nella sede queen caro uguale paradiso del risparmio se volete partire domani con la vostra automobile nuova questo è il posto giusto perché oltre 400 automobili in pronta consegna la scegliete oggi la ritirate dopo domani e iniziate a pagarla pensate con la prima rata gennaio 2023 fabrizio ma più che questo invitiamo tutti a fare un salto presso la queen caro ma sì perché la domanda principale è perché partire per le vacanze con l'auto usata venite qua scegliete la vostra nuova autovettura benzina diesel gpl ibride full electric tutte in pronta consegna nuove chilometro zero vetture aziendali vetture con meno di 20.000 chilometri tutte in pronta consegna pensate con sconti fino al 51 per cento una puntata veramente speciale buttatevi al telecomando prendete il taccuino e segnatevi queste grandi opportunità d'acquisto targate queen caro andiamo iniziamo subito pronta consegna parliamo di chip renegade benzina diesel allestimento limited o allestimento longitude pronta consegna immediata a soli 199 euro al mese sempre pronta consegna chilometro zero parliamo di chip compass 1.6 multi jet allestimento limited full option attenzione al prezzo pronta consegna immediata 349 euro al mese non solo nuovo chilometro zero ma chip compass vetture aziendali 1.6 multi jet o la nuova motorizzazione il 4x plug in hybrid esenzione bollo a partire pensate soli 249 euro al mese tutta la gamma 500 x in pronta consegna 1300 multi jet 1000 benzina a partire da 169 euro al mese l'autovettura ideale per le vacanze parliamo della 500 l un bagagliaio enorme 1400 benzina con possibilità di impianto gpl a soli 199 euro al mese tutta la gamma 500 in pronta consegna chilometro zero la versione hybrid oppure versione gpl parliamo di pronta consegna immediata a partire da 129 euro al mese esenzione bollo e circolate sempre tutta la gamma panda in pronta consegna perché aspettare 120 giorni per un'autovettura venite qui prendete la versione ibrida gpl tutte in pronta consegna a partire da 99 euro al mese tutta la gamma fiat tipo in pronta consegna 1300 multi jet cinque porte station wagon tutte in pronta consegna pensate ma quanto costano queste tipo soli 149 euro al mese sempre pronta consegna parliamo di lancia y vettura aziendale 1000 hybrid a soli 139 euro al mese allestimento gold jeep compass 1.6 multi jet allestimento limited 120 cavalli vettura aziendale a soli 189 euro al mese non solo vetture aziendali ma ha usato premium parliamo di mercedes gl allestimento cambio automatico full option attenzione al prezzo 349 euro al mese mercedes classe a 180 in pronta consegna attenzione al prezzo 249 euro al mese ultimo pezzo disponibile sempre in casa mercedes pronta consegna classe a 200 sport full option interno pelle chiaro pensate a soli 269 euro al mese tutta la gamma citron peggio in pronta consegna parliamo di peggio 3008 vettura aziendale a partire da 199 euro al mese in casa nissan tutta la gamma nissan cascai in pronta consegna 199 euro al mese tutta la gamma bmw in pronta consegna x3 cambio automatico versione full option attenzione al prezzo 399 euro al mese ultimo pezzo disponibile nissan juke 1.6 benzina gpl allestimento a 100 attenzione al prezzo 149 euro al mese esenzione bollo un bellissimo mercedes classe b in pronta consegna interno pelle full option a cambio automatico a soli 249 euro al mese un bellissimo ford kuga turbo diesel e pronta consegna auto vettura ideale per le vacanze a soli 199 euro al mese un bellissimo set arona allestimento fr sportivo natural power esenzione bollo attenzione al prezzo con soli 169 euro al mese avete capito amici che da queen car la possibilità di scegliere di scegliere l'automobile che desiderate di scegliere il canone mensile che desiderate investire e spendere per l'acquisto della vostra nuova automobile grazie all'operazione evergreen queen car l'automobile che vuoi tu con la rata che vuoi tu e la prima rata puoi iniziare a pagarla da gennaio 2023 sì sono piccoli sborsi mensili sono 36 canoni a partire da 99 euro dopo tre anni cambi l'auto senza maxirata e senza costi aggiuntivi grazie a fabrizio mussino grazie a voi tutti per l'attenzione alla prossima con queen caro uguale paradiso del risparmio